Cominciamo con la prima intervista che è all'eurodeputata Eleonora Forenza che abbiamo collegata con noi da Strasburgo per l'altra Europa a lista Tsipras. Ora questa non sarà la lista con cui lei si presenterà nelle elezioni del 4 marzo ma con il movimento potere al popolo, è così? Sì è così, buonasera innanzitutto, l'altra Europa con Tsipras non sarà presente in quanto tale alle prossime elezioni politiche essendo peraltro una lista a vocazione immediatamente europea. In molte di noi sosteniamo con convinzione il progetto di potere al popolo che io credo possa essere la vera novità non solo in queste elezioni politiche ma una novità nel quadro politico italiano ed europeo. Quali sono i vostri obiettivi e i vostri punti imprescindibili che vi definiscono? Beh innanzitutto ci definisce un metodo che è nel nome della lista potere al popolo, potere al popolo è il nostro principale obiettivo politico, ricostruire democrazia, ricostruire potere popolare dove invece l'Europa delle banche e i governi di centro-destra e centro-sinistra hanno tolto potere alle lavoratrici, ai lavoratori, ai cittadini e alle persone. Potere al popolo è anche il nostro metodo, abbiamo definito, stiamo definendo in queste ore programma della lista e candidature della lista in assemblee partecipate a cui può prendere parte chiunque condivida i punti del manifesto principale e fondativo di potere al popolo. Quindi è un metodo, è un obiettivo politico, il nostro slogan è dove era no faremo sì, dove tutti ci spiegano che è impossibile, è impossibile ridurre l'orario di lavoro, è impossibile abbassare l'età pensionabile, noi dimostreremo che è possibile. Voi avete presentato ieri il vostro movimento proprio lì in Europa, qual è stata la reazione, qual è stata l'accoglienza di questo tipo di movimento e di identità? È stata un'accoglienza eccellente, abbiamo presentato potere al popolo prima nel gruppo della sinistra unitaria europea di cui io faccio parte e di cui fanno parte tante altre forze della sinistra radicale in Europa, da Podemos a Ischierda Unida, a France Insumise, il movimento di Jean-Luc Mélenchon e appunto con questi soggetti che noi intendiamo relazionarci per dare voce in Europa ai popoli e non alle banche, non a governi che fanno gli interessi del profitto e non dei cittadini e delle cittadine. È stata accolta anche molto bene la nostra proposta di un referendum sul Fiscal Compact, nelle prossime settimane discuteremo in Europa tra Bruxelles e Strasburgo del Fiscal Compact, che le forze della grande coalizione, parlo del Partito Popolare Europeo e il Partito Socialista Europeo, che in Italia sono Forza Italia e Partito Democratico, vogliono far diventare un trattato di valenza comunitaria, noi invece pensiamo che sia un errore, un esproprio di democrazia far diventare il Fiscal Compact un trattato comunitario senza neanche consultare i Parlamenti e proponiamo un referendum sul Fiscal Compact, così come proponiamo la cancellazione dell'articolo 81 modificato della Costituzione, che ha introdotto il pareggio di bilancio in Costituzione, rendendo di fatto impossibili quelle politiche di welfare, di redistribuzione del lavoro, di costruzione, di una sanità, di una istruzione per tutti e pensiamo che invece tutto questo vada rovesciato, dando parola al popolo, dando potere al popolo. Senta, ma sull'immigrazione, che è uno dei temi caldi sia in Europa, sul tavolo di Bruxelles, di Strasburgo, ma soprattutto in Italia, voi che cosa proponete? Beh, innanzitutto mi viene ad avanzare una proposta puntuale, dopo quello che ha dichiarato ieri il candidato presidente alla regione Lombardia, che ha parlato di un rischio di estinzione della razza bianca a causa dei flussi migratori. Io credo che chi esprime posizioni apertamente razziste debba essere incandidabile. Il primo punto per noi è che il razzismo non sia un'opinione come le altre, ma il razzismo vada apposta fuori dal dibattito politico italiano ed europeo. Ed è per questo che noi ragioniamo di come rendere e restituire la possibilità di una vita degna a tutte e a tutti, a partire da una proposta come quella della costruzione di corridoi umanitari per chi scappa da guerra, per chi scappa dalla fama e per chi scappa dai disastri climatici che molto spesso l'Europa stessa ha causato. Il tempo a disposizione è finito, i cinque minuti sono trascorsi, comunque la vostra posizione è molto chiara. La ringrazio, le auguro buon lavoro. Ringrazio io voi. Ringrazio io voi.